Ciao a tutti, io mi chiamo Nina e benvenuti nel mio canale e oggi farò il mio secondo gameplay cioè giocherò per la mia seconda volta ai videogame insieme a voi e oggi giocherò di nuovo a Russian Aventura di Daypixel ma comunque ragazzi cos'altro aspettiamo? Cominciamo a giocare! metto qui le mie coltella lattina, le un po' più porta fortuna aspetta, così che moda che fambetti di luci? questa? questa? vabbè questo è spento però io direi di nuovo questa ok, cominciamo! ok, premo ok ok, ho premo molto ok e adesso qui comincia eeeh, si troppo ma ragazzi perché si è perso il mio primo gaming? quando finisce questo video vorrei subito vedere il mio primo gaming come ho detto ho cambiato la mia personaggia prima avevo i capelli pieni come me e adesso non ce l'ha così, perché l'ho venuto guardate perché l'ha la zona parfalina! che bella! parfalina! ok, adesso vado avanti perché si è perso il mio primo gaming? facciamo un piccolo riassunto delle mappe come vedete qua qua c'è la zona di Dory che è il mio preferito come sapete e dopo qui c'è quella della Tatooine la zona degli Incredibili poi c'è la zona di Toy Story e poi c'è la zona di Up che è bellissimo e poi la zona di Cars che non mi piace molto il film come sapete a me è carino cioè mi piace il film però il gioco non tanto ma comunque ragazzi oggi ho scelto di giocare a Ratatouille giochiamo ok adesso c'è il bambino che fa andare là come sempre ok ehi la guarda un po' chi c'è sei ancora qui stavo giusto per giocare con Ratatouille e se fossimo nella cucina di Gusto e Linguini ha fatto uscire i topi prima che arrivi il rispettore sanitario facendo arrabbiare Skinner ancora di più lui sa che questa sera verrà da Gusto il famoso critico gastronomico Antone Go che va matto per la Ratatouille di Remy solo che Skinner vuole rovinare la Ratatouille così Ego cambierà idea e stroncherà il ristorante di gusto facendolo chiudere per sempre e Skinner sta arrivando in cucina rovinirà la ricetta di Remy non fai come fai quindi ragazzi avete un po' capito la storia lo chef cattivo Skinner lui vuole rovinare la Ratatouille cioè la no la Ratatouille sì la Ratatouille e la vuole rovinare e quindi noi la dobbiamo salvare e catturare con lo chef ok si si ragazzi con una velocità nella luce aiuto aiuto è fichissimo ragazzi guardate wow è bellissimo ok è bellissimo è bellissimo wow wow vuoto muoto 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 da qua vado su adesso oh ok sono per cadere ok grazie non mi ricordo come si chiama Topo Grigio però vabbè grazie Topo Grigio mamma mia ho paura ah ragazzi sono so che ancora so che è un gioco mi limita l'ansia dai questo chef mi limita l'ansia mamma mia chef ok corro corro presto e poi siamo tipo in un freezer si siamo tipo in un freezer wow che bello mi piace scivolare e ora ora l'appico qua guardate qua è difficile correre così come Topo guardate qua ora vediamo di qua ma qua enabled adesso mamma mia ragazzi quando suta qua da ok adesso mi piace un sacco di giocare a me bellissimo ok finì cos'è arancia mi stanno portando arancia oh no sono caduta mamma mia è vero oh no di nuovo la parte di cui sfinder mi vuole e eliminare ah ok lo prendo e il lancio il lancio ok giù aspetta aspetta cosa ho visto anguria wow wow è bellissimo è bellissimo adesso si salta e boom corro corro adesso ho il mio bicchiere butto tutto il piatto il bicchiere tutto guarda qua sotto qua mamma mia grazie grazie coperiere oh fiore calcio al fiore eh guardate 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 aspettate cosa ho visto cosa ho visto ho passato un segretto guardate un segretto io adoro i portanti segretti guardate guardate cosa ho trovato è stato è stato è stato è stato di nuovo e adesso cammino qui vediamo che sono tanti sembrano pezzi di formaggio non ti presento tipo quelle pezzi di formaggio eh sembrano quelle provato il lancio ok ora ah oh no mi ha colpito ah ah momodoro 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 ah 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 per pelo ah per pelo ah momodoro e bam oh oh bellissimo e vai via prigione chef ok ragazzi oh oh che succede adesso mi dice troppo buona eh eh ma comunque ragazzi il video di il video di oggi si conclude qua ma prima di finirlo vi dico soltanto che ogni venerdì alle ore 12 tutti connessi sul mio canale perché esce un nuovo video ma comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così cliccate un pollicione in su iscrivetevi al mio canale cliccate la campanellina per avere tutte le notifiche del mio canale e quindi a tutta la vita a 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